E bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere, siamo su Minecraft. E vi ho fatto un trenello perché vi avevo detto, no? Che in realtà avremmo... Ops, ho rotto la lampada. Rimettiamola. Vi avevo detto che intanto abbassiamo subito gli FPS del gioco. Ecco, vi avevo detto che avrei fatto il secondo episodio in compagnia dei miei amici, no? Invece ho deciso, dato che ho trovato un sacco di cose, mentre preparavo le cose per i miei amici, ho detto, facciamo un secondo video insieme. Proprio tra di noi, aspettate. Ok, mi sistemo un pochino il microfono. Così. Per mostrarvi quello che ho trovato. Poi io stasera, perché voi questo video lo vedete giovedì, ma io lo sto registrando domenica, e stasera registro con i miei amici il video che voi vedrete domenica prossima. Ma vabbè, tutto contorto, non mi interessa. Comunque, non dobbiamo parlare di fuori dai video, quindi parliamo soltanto di questa avventura. Siamo in un fantastico mondo, qua c'è un fantastico villico. Quasi quasi lascio a 60, così ne fa un po' di più magari. C'è un villico che per 14 pistoni mi dà ben due cespugli di bacca grezza di ferro, che a me non servono nulla. Siamo in una torre, vi chiederete che torre è? È la torre di questo qua, di questo castello che io ho trovato. E non ho neanche dovuto cercare molto, perché guardiamo nella mappa, qui è ancora l'esatto posto dove c'era il letto all'inizio, e il castello è in questa foresta qua, vedete? Aspettate, togliamo i mob, così si vede meglio, vedete? Eccolo qua, il castello, che è veramente bello e grande. Ho trovato un sacco di altre cose. Qua c'è un esplosum meteorite che ha creato anche un portale del nether, qua c'è una cosa dell'abisso, e poi, a quanto pare, il mondo sembra corrotto. Perché, guardate, vedete tutta sta cosa blu? Io non so se sia normale, perché io ho messo come mod... Tanto qua c'è creato un cratere gigantesco per colpa di un terremoto, ed è a fianco al mio castello. Ho paura che possa venirci a toccare, ma spero proprio di no. Questo qui sarebbe il reame dell'abisso. Questo qua e questo pezzo qua, invece, è la Twilight Forest. Questo qui è un pezzo, è una foresta della Twilight Forest. Non so cosa ci facciano qua nel mondo. Io non ho toccato nulla. Questo qui non contate, perché era di una vecchia generazione del mondo, bisogna ancora andare a coprire questi nuovi chunk. Perciò, insieme, andremo a esplorare questi posti, a vedere di che cosa si tratta. E andremo anche qua a uccidere un po' di questi mostri dell'abisso, che si trovano in questo piccolo dungeon. Per farlo, abbiamo questa fantastica armatura, che ho trovato in questo castello, che era pieno di oggetti fighissimi, questi qua mi sono trovato, e ho già fatto il moschetto con indistruttibilità 2. Un po' di proiettili lì ho. Direi che scendiamo. Ahia, no, ci sono gli zombie nella torre. Lei, scusi. Ma muoia, ma che cosa ho? Contracolpo? Ci credo che vola così lontano, allora. Qua ho fatto la nostra, diciamo, base. Ho già creato un freezer, così abbiamo tutto il cibo buono. Guardate quanta roba ho trovato. La maggior parte di questi l'ho trovata in questa fortezza. Qua ci sono, vabbè, le crafting table, qua c'è un sacco di altri oggetti, delle robe ancora nei propri posti. Qua ci sono le camere, dove io e i miei amici dormiremo. Qua c'è cose, c'è pieno di quadri che a me piacciono molto. Qua c'è una stanza particolare, che è tipo un magazzino vuoto. Ma è molto, molto bello come posto. E ci sono un sacco di segreti sotto terra, c'è pieno di passaggi segreti e robe fighissime. Ma direi di creare, se ne avete voglia, intanto lascerei questi oggetti qua che non mi servono. Cioè, questo può sempre servire. Quindi un bucket d'acqua ce lo teniamo sempre. Che può sempre servire in caso pigliassimo fuoco. Questa so che non ci serve. Tutti questi oggetti ci servono sicuramente. E volevo farmi un arco. Perché abbiamo già il moschetto, sì. Però comunque un arco non fa mai male. Perciò facciamo questo fantastico arco. E purtroppo non ho livelli, se no l'avrei già incantato. Già, vabbè. Per questo arco comunque ce lo teniamo qua, abbiamo un po' di frecce, va bene. Cibo non ne abbiamo moltissimo. Fatemene prendere un po'. Cosa posso prendere? Il manzo, toh. Cuocio un po' di manzo. Cuociamo un po' di manzo, ragazzi, così diventa un po' di cibo. Già. Questi video non dureranno, come ho già detto, molto, però 20 minuti, dai, almeno. Almeno 20 minuti di video. I primi, poi gli altri dureranno magari anche di più. Perciò questo nuovo modpack ha un sacco di cose nuove. Non ho aggiunto nulla dal primo video, se non sbaglio. Dovrebbero essere le stesse identiche cose, giusto? O c'è qualche nuova mod che ho messo, forse? Non lo so. Twilight Forest, Abyssal, la Duntur Backpack, l'Ether, la Chocolate Quest, che vabbè, l'ho aggiornata, ho messo una versione migliore, perché quella di prima non funzionava. Eh no, c'è la Fossils, la Meteors e la Balcon Suite. No, non c'è nulla di nuovo. Dai, muoviti a cuocere queste due bistecchine, così andiamo a divertirci. Ci divertiremo tanto a esplorare questi luoghi particolari, io ho già un po' esplorato, per se no non ci sarebbero nella mappa, ma va bene. Andiamo. Voilà, usciamo da qua. Apriamo il cancello. Tutte queste cose erano già fatte, ve lo assicuro. Partirei andando in su, verso quel coso dell'abisso. Aspetta, ok, il moschetto è carico, no? Perché laggiù nascono dei mob, del liquido particolare, e che ci potrebbero anche tranquillamente uccidere. Io questo lo vorrei assolutamente evitare. Perciò corriamo. Ho trovato un bioma dove ci sono un sacco di mucche. Quante cavolo di mucche ci sono qua, scusate. Oddio. Comunque, andiamo. Corriamo. Altre mucche. Guarda quante mucche ci sono. Occhio! C'è un piccolo canyon. Già lo vedo nella minimappa, il posto dove stiamo andando. Basta fare questa piccola collinetta qua dietro, e ci siamo. Eccolo lì. Sommerso, sott'acqua. Ci potremmo morire. Quindi. Guardate che mostri sono. C'è anche un creeper, ma non c'entra. Questi sono mostri dell'abisso. Oh mia. Quello lì. Oh oh oh. Oh ma perché non piglia danno? Ahia. Vabbè, fa solo un cuore. Non capisco. Pigliano danno in maniera strana. Sono lenti. Dropperanno qualcosa di... Fanno diventare quello dove camminano pietra dell'abisso. Ahia. Non sono forti, ma se sono tanti... Cappero. Fortuna che ho contraccolpo, così li posso spedire via. Vorrei evitare che contagino tutto il mondo con l'abisso. Perché soprattutto su sta cosa che non è pietra dell'abisso, mi sa. Non è la normalissima pietra dell'abisso. Guarda sto qui che mi attaccava da dietro. Oh, mi ha dato degli oggetti. Quanto bene non possono essere attaccati dai proiettili. Guarda testi infami. mica si è ricurato. Ah no, ok. Ok, muore. Giusto? Lui non meglia... Cos'è che sono? Shoggot Flash. E vengono utilizzati per fare questo. Che viene utilizzato per fare questo. Che viene utilizzato per fare questo. per quale poi si possono fare dei cosi particolari. Che cosa dà? Amplifier Powered... Powered... Oddio, sono cosi che danno... Creano degli agg per potenziarsi, tipo... Sì. Wow. Oddio, ci sono degli oggetti particolari che io non conosco ancora. Però vabbè. E il primo... Questo cos'è? È la... È la... È la Shoggot... Odds. Sicuramente non si pronuncerà così. Ma vabbè. Comunque adesso dobbiamo andare nella Twilight che è di qua. Non so perché... Ma già ho visto prima che alcune cose della Twilight erano uscite nel mondo reale. Non so se si è adatto a un bug del mondo... O se ci sia qualche cosa di strano al di fuori del mondo. Intanto là sopra ci sono dei villager cattivi, quindi degli zombie villager. Non so perché ne nascano così tanti. Quello che so è che ho freddo nella vita reale e tremo. E tutta questa nebbia non mi piace. Il fatto che non si poteva dormire l'ho riparato appunto modificando la mod che dava il fastidio, che era appunto quella dei dungeon. L'ho modificata e... Così facendo... Oh, una... Una strega... Che muore male. E che... Guardate, questi sono gli alberi della Twilight. E non so che cosa ci facciano qua. Cioè, ci sono gli alberi della Twilight nel mondo reale, senza che io li abbia portati. Questa cosa... C'è addirittura l'albero arcobaleno. Cioè, infatti guardate... Guardate nella minimappa... Aspettate... Vedete dove ho la freccetta qua? C'è scritto Extreme Hills, no? Perché qua siamo nell'Extreme Hills. Mi sposto qua ed entriamo nella Enchanted Forest. Siamo nella foresta incantata della Twilight Forest. Non so cosa ci possa fare qua, nel mondo reale. Questo mi... Mi fa stranissimo. Ma questo qui è il Dark. Cioè il Rainbow Oak. Fa freddo. Oh, molto freddo. Ma io, dato che... Beh, sono qua. Io non li ho messi, ve lo giuro. Quasi quasi mi piglio già. Questo qua, se riesco. Perché a me piace molto. Come legno. Riuscisco a pigliare anche il Sapling. Di questo albero. Il Rainbow. La quercia... Eccolo. La quercia arcobaleno della Twilight Forest. Ecco qua, abbiamo ottenuto... Due... Sapling. Ma vabbè. Guardate, cioè... Quello lì è l'abisso. Stanno succedendo cose che io non mi spiego. Cioè non capisco. Quello lì è un pit. Quello lì è lo zombie pit. Del... Del... Dell'abisso. Cosa ci fa? Qua. Quello è molto forte. E non so... Cosa ci faccia? Qua. Nel mio mondo. Non so perché spawnino qua. Questi mostri. Cioè. Non sembra molto forte. Cioè almeno non si fa colpire. E ti dà. Della Corallium Plague. Aspettate. Che... Mi devo un attimino grattare l'orecchio. Scusate che mi... Ecco. Appunto. Che cazzo. Però. Mi ero dimenticato. Che quando si sta in quella zona lì dell'abisso. Ti viene cecità ogni tanto per qualche secondo. Io non capisco che cosa sia. Sto fatto. Che... Cioè. E a quanto pare si mangia. Plague with flesh. 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 O una bone. Quindi è della... È della carne piagata. Di Corallium. Cioè della Corallium carne piagata. Con l'osso pure. E può servire per fare dei cristalli fosforescenti e dei cristalli, cioè delle shards. Quindi delle schegge cristallizzate di Corallium e schegge cristallizzate di quell'altro oggetto strano. Ma... Non... Non cap... Ce n'è un altro. Cioè io non capisco... Perché spawnano questi... Mostri. Questo cos'è? Un pit infatti. Un pit. Ma sembra diverso dall'altro pit. Ho sbaglio. Però dà la stessa carne. Vedete qui siamo nel river e qua siamo nelle darklands. Non capisco proprio perché siamo nelle darklands. Questa cosa è inspiegabile. Vi giuro che io non ho fatto nulla. Quando entri nel mondo viene scritto in chat che la Twilight Forest ha avuto un problema. Sì. Ma non che... Pure il... Questo cos'è? Foglia di quercio. Ok no, è una quercia normale questa. C'è scritto che il... Che la Twilight Forest ha tipo avuto una corruzione. E quindi ci può stare che la Twilight Forest spawni nel mondo. Per esempio tovi faccio vedere. Guardate. Dove? Ti guardate. Vedete? Twilight Forest. Biome ID. Conflict detected. Quindi ha trovato un conflitto. Il fix. L'hanno fixato by. Editing the config file. Quindi hanno fixato tipo... Editando i file. Non so facendo che cosa. Non ho capito se centri con la mod del... Con la extra biomes. Che magari va a... Influire. Nella... Nei biomi. E se qualche bioma non riesce a crearsi con la mod della extra biomes. La Twilight Forest va a rimpiazzare quei biomi. Questo non lo so. So che... È strano. Non mi pare che sia mai capitato a nessun altro. Una cosa del genere. Io sono abbastanza perplesso. Ci manca solo che mi trovo in cielo le... Le nuvole del... Dell'ether. E ho trovato tutti i reami. Che ho messo nel modopack qua. Io vi giuro che non ho fatto nulla, no? Potrebbe esserci qualche problema di generazione. Il che però comunque è molto figo e bisognerà indagare comunque su questi reami. Cioè le Darklands. Queste qui sono le... Tipo le montagne delle Darklands. Vedete? Darklands. Highland. Quindi... Nelle... Nelle montagne. No, 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 no. Porca merda, sti... Oh, i ragni sono veramente una cosa invivibile. Con questo modopack. Non so che mod li faccia essere così potenti, ma... Mi rompo in una maniera assurda. No, 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 no. Cazzo, carica. Pum. No, no, col buio orribile, col buio orribile. Ma che cazzo... Aiuto! Sto cagando in mano. Cosa sono sti cosi? No, 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 no. No, 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 ragno di merda. Vaffan... Eh, vabbè. Aiuto! Cioè... Ma che cazzo... Cioè, e siamo nel mondo normale, ve lo assicuro. Siamo nel mondo normale, ma pure sono le Dreadlands, cioè le Darklands, scusate. Un piccolo di Pit! Che corre tantissimo! E... No, 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 il buio no, il buio no. Il buio no! No, 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 è la Madonna, aiuto! Fatemi uscire subito da sto bioma. Mi sto cagando... No, ragazzi, davvero, io mi cago in mano. Madonna. Fortuna che ho questa armatura e questi poteri, perché... Cioè... Non capisco proprio... Un pit. Cioè... Oh mio Dio, cioè... Non so che cosa sta succedendo. C'è la nebbia, tipo... Non sembra anche a voi che ci sia la nebbia. Queste sono le Green Hills, cioè le... Le colline verdi. Probabilmente sono della... Della... Della Extra Biomes. Infatti, vedete, qua ci sono... No. Creeper, creeper, creeper... Eh, che... Vabbè. Ho preso le fragole. Cioè, un casino, non ci sto capendo nulla. Madonna. Che roba è? Cioè... Ah, non so che cosa dire. Sono confusissimo. Sono confuso in una maniera assurda. Stasera, quando registrerò il terzo episodio della serie con i miei amici, Andremo là con delle pozioni di visione notturna Ed esploreremo per bene il bioma. Di là c'è. Di là c'è il mio castello. Non capisco proprio... Boh, sono completamente interdetto. Cioè, non sto capendo. Che cos'è sto aggeggio qua? Cos'è che c'è? Qua così a caso? Tipo tutto distrutto. Come se fosse caduto un... Wow. Mi sono trovato senza guardare. Cioè, cos... E qua cos'è successo? È caduto un meteorite? Oh. È esploso tutto qua. O è andato a fuoco qualcosa? O è esploso tutto? Perché c'è dell'al... Della... Boh. Tipo tutto buggato qua. Sto capendo. Vabbè, quello che so è che voglio tornarmene a casa. Fatemi entrare nel mio castello. Dov'è l'entrata? Aiuto. Ho veramente paura di quel posto lì. Cioè, non... Non so. Soprattutto perché io la mod della Twilight la conosco abbastanza bene. Quella del... Abisso. Non ne so proprio nulla. E quindi mi cago sotto. Perché non conosco i mob che può portare la... Che può contenere la mod. Perciò... Chiudiamo e... Ma grazie. Siamo... No, 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 no. Questi qua sono i sotterranei. Vi volevo far vedersi. Dai, vi faccio vedere anche i sotterranei del mio castello. Cioè, del nostro. Mio e dei miei amici. Carica! Porca miseria. Ok. Muori. Voilà. Mettiamo un paio di torce. Non so che cosa servono sti... Tipo dei palchi. Non lo so. Qua c'era una stanza con un sacco di oggetti molto utili nelle casse. Stavo morendo di sete. Ma va bene. E questo è, diciamo, il sotterraneo. È tutto rotto. Io e i miei amici poi lo metteremo a posto. Perché sono esplosi un sacco di mob quando ci sono entrato. C'è stato un po' di casino. Anche qua, guardate, è esploso tutto. Questo l'ho creato io. Ho già creato il portale. E anche il... Fantastico... Coso di incantamento che c'era già nel posto. Ma io l'ho ricre... Aspetta. Vabbè... Mi so cagato in mano. Se mi giro dietro c'è un villico. Porca miseria. Fatemi bere, però. Vabbè. Ragazzi. È particolare la situazione. Che cazzo... Da dove arrivava sto zombie? Scusate. È tutto illuminato ed è giorno. Ma da... Boh. Non capisco. Ho paura. Non è che è maledetto questo mondo. Guardate, anche qua è esploso tutto per colpa di un dannato. Mi è nato, sapete cosa? Un ogre della Mock Reatures. Qua dentro, durante la notte. E ha tipo rotto tutto. Fa vedere che magari dietro quel quadro c'è qualcosa. No. Qua c'è... Guardate quante cose ancora ci sono. Armature di ferro. Vedete, qua ha fatto esplodere tutto. Ma vabbè. Già. E tipo sotto terra c'era un reticolato di trappole. Roba assurde che io non ho capito. Ma va bene. E qua c'è l'ultima stanza. La stanza più in alto della... Tipo qua, no. Poi la torre è ancora più alta. Ma lei come... Perché lei villico è salito lì sopra? Non lo so. Ma non mi interessa. Eh beh ragazzi. Per questo primo episodio... Cioè secondo, scusate. Episodio della serie. Direi che ci possiamo fermare. Possiamo quello che abbiamo raccolto. Cioè io non... Non mi capacito del fatto... Che ci siano queste cose. Qua. Boh. Non... Non capisco veramente come sia possibile. Metterò questi fantastici alberetti qua. Questo albero lo piazzeremo qua. Perché voglio vederlo nascere. Voglio far nascere... Un albero della Twilight qua. Qua c'è legno. Tutti questi oggetti strani. Delle mod... Cioè... Poserò tutto qua. Non c'è neanche più spazio. Tanto usiamo questo legno qua. Tanto mi dà del normalissimo... Legno di quergia. Per fare un altro paio di casse. Che andrò a posizionare qua. Per metterci questi altri oggetti. Sono veramente perplesso. Non... Sto capendo. Questa è la ma... È vero. Perché siamo sotto a un tetto. Quindi la mappa non si vede bene. Perfetto. Ok. Adesso si dovrebbe vedere bene. Aspetta. Ho visto un villico che pigliava danno. Cos'hai? Che problemi hai? Scusi. Niente. Vabbè. Cioè... Guardate. Qui proprio a fianco al mio castello. C'è tutto un intero... Bioma delle Dreadlands. Cioè delle Darklands. Scusate. Qua questo dovrebbe essere una savana. Se non sbaglio. Qua c'è una mega talga. Qua c'è una pianura. E ok. Anzi no. Questo qui e questo qua. È un altro... Coso... Della Twilight. Che... Non è la foresta. Ma è un altro... Posto della Twilight. Qua io sono... Qua c'è... No. Questi che? Questo qui non c'entra nulla. Erano un'altra esplorazione. Non c'entra. Qua poi dovremmo continuare a esplorare. Per vedere cosa c'è. Per cercare anche altri castelli. Del genere. E beh. Io sono veramente veramente spaventato. E... È già nato. Subito così. Cioè è già nato. È così veloce a nascere davvero quest'albero. Beh a me dell'albero interessa il fogliame. Perché cari... Cioè in realtà io non so. Se me lo dà colorato il fogliame. Io spero di sì. Se me lo dovesse dare colorato... Sarò felicissimo. Fammi vedere. Oppure se me lo dà tutto dello stesso colore. Perché comunque vederlo così è molto molto bello. No. Me lo dà tutto così. Vabbè. Peccato. Magari se viene piazzato poi lo fa il colore. No? Eh però villico del cavolo. Se ti metti a mezzo. Cioè forse se viene piazzato cambia colore. Sì. Guardate se lo mettete vicino. Oh. Ma che bello che è. E ha tanti colori diversi. Guardate quante sfumature di colore ha. Cioè. Ma ha sfumature tipo infinite. Cioè guarda. Cioè non... Cioè guarda quante... Quanti colori che ha cavolo. Forse con uno stack ci fai un colore. Cioè vedete? Che figata. Quanti colori diversi che ci fai... Cioè mi piace un casino questo. Qua. Se facessi dei... Dei circondari con questo qui sarebbe bellissimo. Delle aiuole con que... E mi può dare anche dei sapling. Scavandolo. Quindi ottimo. Cioè non me ne darà mai tanti sapling. Però va bene. Eh ma io tipo ne avevo... Ne avevo tipo una cosa come 42. Cosa è successo. Ah è vero che purtroppo ogni tanto mi sparano via tutti i blocchi. Allora sono... Ah no. Dei nuovo 42. E più un sapling. E un'erba che non mi serve. E vorrei sapere come mai è nato uno zombie. Due... Non capisco perché mi nascono i zombie in casa. Cioè e sono tanti. Non dovrebbero poter nascere così tanti zombie. Cioè così vicini poi al player. Ermo di... Pure incantato. Quindi vuole. Devo vedere... Se c'è... Un punto di buio. Beh sì. Qua di punti di buio ce n'è parecchi. Perciò direi di mettere assolutamente una luce. Qua poi c'è una cosa che ci porta giù in delle profondità assurde. Qua è tutto un reticolato di bottone. E robe molto divertenti e simpatiche. Ma qui è tutto illuminato per il resto. Cioè... E' una... Quanto bene non posso piazzarlo. Lì sarà magari una scala. Ma comunque ragazzi. Per questo secondo episodio della serie è tutto. Io con la mia fantastica... Dove spada in mano. Anzi preferisco il mio moschetto. Guardate. Io con il mio moschetto vi auguro una buona giornata. E a me non resta che dire... Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!